Il più cordiale saluto da ETG, edizione marchigiana del nostro notiziario, che ricordo va in onda in contemporanea sia sulle frequenze di ETV, canale 12, che in streaming sul nostro sito ora inquadrato www.etvmarche.it. In apertura di questa edizione la cronaca dal pesarese, cantieri irregolari in due scuole di Pesaro, operai nero, evasione fiscale, mancanza di autorizzazioni, 5 le denunce in totale. Il controllo è stato effettuato nel cantiere di Ile di due edifici scolastici, la scuola materna La Grande Quercia e la scuola primaria Don Bosco a Pesaro. L'attività di indagine, iniziata con l'accesso ispettivo effettuato il 19 maggio scorso con la collaborazione dell'arma territoriale e dell'Azur Area Vasta 1, ha portato alla denuncia a piede libero di 5 imprenditori che sono legali rappresentanti di imprese operanti nel cantiere ed Ile in oggetto. Cambiamo argomento, andiamo ora alla notizia di politica perché il capoluogo regionale aspetta, è in corso, la votazione tra le due figure che si sfidano per le primarie in vista delle prossime elezioni del comune di Ancona. Ida Simonella, Carlo Pesaresi. Vediamo e sentiamo. Per la corsa a sindaco nella città di Ancona è arrivato in casa centro-sinistra il momento delle primarie. Seggi aperti domenica 27 dalle 8 alle 20 potranno votare tutti i cittadini italiani residenti ad Ancona con almeno 16 anni di età e gli stranieri iscritti nelle liste elettorali del comune d'Orico. Due, gli sfidanti. Da un lato l'attuale assessore al porto e al piano strategico Ida Simonella, che ha posto la sua candidatura nel segno della continuità con i progetti già avviati dal comune. Andare a votare perché intanto è un grande esercizio di democrazia e non è scontato. Si dà ai cittadini la possibilità di decidere chi sarà il prossimo sindaco. Chiaro, poi passerà attraverso le prossime amministrative. Però non si decide dentro le stanze dei partiti, davanti ai cabinetti. E quindi questo mi sembra una cosa sana. Quindi andate a votare. Poi dico di votare per me proprio per non interrompere il percorso di cui stavo parlando. Per questo motivo, perché abbiamo messo in campo tanto, tante cose sono state fatte. E penso di poter spendere la mia competenza nel saper tradurre tante idee, tanti sogni, tanti desideri. Infatti, quindi non interrompiamo questo percorso. Dall'altro lato l'avvocato Carlo Pesaresi, consulente e progettista per enti e imprese nei settori culturali e creativi, che si candida con una squadra ricca di giovani. Per migliorare il lavoro sin cui fatto dalle amministrazioni di centro-sinistra servono per Ancona energie nuove. Serve un metodo di governo diverso che consenta una maggiore partecipazione dei cittadini e una loro abilitazione. Serve una visione più di lungo periodo che, unita alla concretezza, può fare del capoluogo la città migliore che tutti desideriamo e che ci meritiamo, perché ci meritiamo una città migliore di quella che è adesso. Non è assolutamente vero che solo chi ha governato per dieci anni è titolato a continuare a governare, anche perché se no, come dire, non voteremmo neanche più. Cambiamo decisamente argomento il post-sisma, segni di rinascita con l'area camper e la pancona antiviolenza. È il servizio. Un luogo simbolo di bellezza che può essere stimolo per la rinascita post-sisma. Ecco località Capecchiara di Pieve Torina, uno dei comuni tra i più colpiti dal terremoto del 2016, dove proprio il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è stata inaugurata una grande seduta di un bel rosso brillante. È la pancona per richiamare l'attenzione sul tema della violenza di genere. Ci troviamo in uno dei punti più alti di Pieve Torina. Sopra questa pancona riusciamo ad ammirare tutto il panorama paesaggistico, ovvero solo quello che è rimasto, e guardiamo anche le abitazioni che riescono a ricrescere. Ecco, questo è lo stimolo che abbiamo voluto dare a coloro che ci governano, alle nostre istituzioni, affinché non si dimentichino di noi. Ed è uno sguardo vigile e attento affinché tutti i nostri cittadini, fin tanto che l'ultimo non abbia ricostruito, possano rientrare nelle proprie condizioni di normalità. Nella stessa giornata la frazione Casa Vecchia di Pieve Torina è stata inaugurata una nuova area camper per stimolare il turismo e quindi l'economia dei territori. Presenti anche il sindaco di Visso Spiganti, quello di Fiuminata Felicioli, ma anche il senatore Castelli e l'associazione Campeggiatori Marche. Quello che cerca il camperista, la tranquillità, la natura, e qui c'è tutto, abbiamo un fiume, abbiamo la montagna, qui e poi c'è la famosa tranquillità, la pace che cerca il camperista. Si tratta di un'area camper e quindi di uno di quegli spazi che sarà utile per poter tornare a fruire profondamente, turisticamente, borghi che hanno ancora tante difficoltà, perché sappiamo che la ricostruzione, che pure ha preso ad andare in un certo verso, deve ancora onorare diversi impegni e diverse scadenze. Però, aver avuto l'intuizione di un luogo che può riattivare energie turistiche, vuol dire credere ancora nelle potenzialità di questi luoghi. Questo è il servizio dai luoghi del terremoto. Voltiamo pagina, il Natale che si accende, tutta Ancona sotto il grande albero, con gli auguri a sorpresa di Andrea Bocelli. Siamo una grande comunità. Questo è il messaggio del sindaco, ma vediamo quello che è successo. Bastano dieci secondi per accendere il grande albero in Piazza Roma, ad Ancona e far vivere il Natale da vicino, ai tanti anconetani che si sono riversati nel centro del capoluogo marchigiano, per vivere l'emozione del momento. Più atteso dell'anno, uno spettacolo di musica e luci, il videomessaggio di auguri di Andrea Bocelli e sua moglie Veronica Berti, gli auguri dal palco, della sindaca Valeria Mancinelli, una folla di telefonini in alto per riprendere il momento dell'accensione delle luminarie del centro. Ad Ancona è già Natale. Sicuramente è bellissimo vedere così tanta gente in giro e l'aria di festa si sente. È carino, fa allegria. Sarà un Natale normale? Speriamo, soprattutto di pace. Sì, l'abbiamo visto, perché io lavoro proprio qua sopra, quindi ci piace, è bello. E che Natale sarà, signora? Speriamo che sia meglio dei tuoi ultimi tre anni, che sia il migliore e che ci porti bene. Sì, l'abbiamo visto, ci piace molto, veniamo tutti gli anni, quindi non ce lo perdiamo, ecco. Che atmosfera c'è già a Natale? Sicuramente meglio dello scorso anno. Si comincia a respirare quest'aria di festività e secondo me è anche giusto che sia così. Sicuramente è un bisogno di un clima di festa. È bellissimo, è uno spettacolo, veramente sono rimasta molto sorpresa. Che Natale sarà? È diverso dagli altri, speriamo speciale. È bello, anche un bello spettacolo, direi. Bella l'illuminazione, quindi sicuramente è una cosa carina. Festività natalizie iniziate con largo anticipo, il Natale anconetano arriverà fino all'8 gennaio, ma c'è chi già inizia a portare avanti il proprio lavoro. Ad Ancona è arrivato il Natale, ma è anche arrivato lei. Certo, con il Natale ovviamente arriva anche Babbo Natale, mi sembra abbastanza giusto. Ora come ora è un Natale abbastanza normale, speriamo che continui così. Cosa ne chiedono i bambini? Ma ancora poco o niente, visto che comunque siamo arrivati molto in anticipo quest'anno. Buon Natale a tutti e ho ho ho! Chiudiamo con lo sport, il calcio. Vince la Fermana pari Ancona e Re Canatese. Sconfitta invece la Vis. Brinda e compie passi in avanti in ottica salvezza la Fermana, che piega a Recchioni la Lucchese 1-0, è decisivo. Il gol dell'esperto centrocampista Misuraca al ventunesimo del primo tempo. Canarini che salgono a quota 14 punti in graduatoria. Impatta invece tra le mura Michele Ancona, che non va oltre l'1-1 con la Torres. Nel primo tempo la formazione di Gianluca Colavitto fallisce tre occasioni, con Deramo, Prezioso e Moretti, e paga d'azio ad un contropiede finalizzato da Scappini. Nella ripresa complice l'ingresso in campo di Spagnoli, che realizza su rigore il nono gol in stagione, arriva il pareggio ben conquistato da Lombardi. Pomeriggio tutto sommato positivo per la Re Canatese, che conquista un punto in rimonta sul campo del Montevarchi. Dopo il vantaggio rosso-bluo ad opera di Jallot, ad inizio secondo tempo, è arrivato il pareggio leopardiano, firmato da Sbaffo, determinante nella circostanza. Da segnalare che alla mezz'ora del primo tempo i padroni di casa sono rimasti in dieci per l'espulsione di Kernezzo. Non basta una reazione orgogliosa alla Vispesero in casa dell'Entella. I biancorossi di Mister Sassarini cedono 2-1, riportandosi in gara troppo tardi con Fedato, dopo le iniziali reti liguri di Tencorang e Zamparo. Match spiegoloso, dove i padroni di casa conquistano quel tanto che basta per rimanere sulla scia del primo posto. Con il servizio del nostro rendere affiano si chiude questa edizione di pranzo del nostro Tg. Grazie, buona domenica, buon proseguimento. Con i nostri programmi vi lasciamo alla sintesi della nostra rassegna stampa.